Prima mostra d'arte del pensiero a Teramo, se il fango è anima, espone Paolo Damiani, vent'anni, di Giulia Nova. Se il fango è anima, che significa? Tu metti l'anima in questo fango? Sì, io per ogni scultura cerco di mettere l'anima come elemento principale. Cerco di dare, per me l'anima è molto importante per queste sculture, cerco appunto di dare questo significato vero. Quando hai cominciato a plasmare il fango? Fin da piccolo ho avuto sempre questa passione che mi ha dato sempre forti emozioni, mi ha sempre dato della grinta di creare appunto queste sculture. Quest'opera è dedicata a Nassiria, ce la puoi descrivere? Allora, io quest'opera appunto come le diceva è dedicata a Nassiria, per me è molto significativa dove io avendo fatto il carabiniero ausiliario ho risentito molto questo tragico evento e ho cercato di immortalarlo appunto con questo basso rilievo realizzato in Terracotta, dove ho concentrato in un centro proprio la disperazione di una mamma per i figli morti purtroppo in questa strage. Poi ho riproposto una caserma distrutta, appunto ho voluto proprio ricreare quell'ambiente drammatico che appunto è stata questa strage. Grazie a tutti.